Quest'anno è Targatenko per il più bel album in assoluto dell'anno, il cui titolo è Ecco. Ma il Clubdenko, cioè quei pazzi spassolati che avete scritto prima, noi l'avevamo già chiamato e invitato prima che i giornalisti decretassero la sua vittoria alla Targatenko. Niccolò Fabi! Ehi, buonasera a tutti. Grazie a tutti. Sono l'uomo quello di cui parlo. Il suo interno come del suo intorno, di quando scivola su se stesso, di quando scrive come adesso, sulle sue guance e il vento fresco, è la vetta della conquista, sotto le unghie alla terra, le sue serate e le sue ferite, le donne amate poi dimenticate, dell'ambizione, della speranza, le ragnatele della sua stanza, di quando ha paura di morire. O un orgasmo lo fa tremare. O un orgasmo lo fa tremare. Non sono l'uomo quello di cui canto, di quando sbaglia e non si perdona. Il fulore e il disincanto di quell'universo, la forma di persona. Parlo di quando spara il suo fratello, sui ginocchi è un portafoglio, quando osserva l'infinito, attraverso il suo ombelico, di quando sventola una bandiera. O ci si nasconde dietro per paura, una menzogna è più cattiva, nascosta dentro una preghiera. Sono un'uomo quello di cui canto, di una doccia dopo il tradimento, nel sorriso che ritorna dopo che pianto. E sono un'uomo quello di cui canto, di una doccia prima di un lungo viaggio, quando non sa se puoi partire, sia solo partire, o magari scappare. Ma è solo un'uomo quello che mi commuove, che vuole uccidere e salvare, amare e abbandonare. E sono un'uomo quello di cui canto, perché la gioia è come il dolore, si deve conservare, si deve trasformare. Grazie Mille grazie